La regione siciliana ha stanziato 5 milioni di euro per potenziare il sistema educativo attraverso lo sviluppo della didattica immersiva nelle scuole di primo ciclo, inclusi istituti comprensivi, direzioni didattiche, scuole medie. L'obiettivo è creare ambienti didattici che utilizzino la realtà aumentata e virtuale. L'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano sottolinea l'importanza di incrementare le competenze scientifiche, tecnico-professionali, promuovendo un approccio educativo e innovativo. Le scuole possono presentare un progetto finanziabile fino a 55 mila euro con scadenza per la domanda fissata al 20 novembre.